Buonasera a tutti, vorrei raccontarvi proprio di un modo di esprimersi universale, che però non è una lingua, proprio perché tutte le persone di tutto il mondo se la guardano la possono capire. Il nome è visual vernacular. Il visual vernacular è proprio una tecnica d'arte visiva, di espressione visiva, collegata al gruppo della comunità dei sordi. Però chi può fare questa forma d'arte? Non tutti i sordi la conoscono, tutti i sordi la capiscono, ma è proprio una vena artistica che si esprime. Il visual vernacular, il nome del visual vernacular è stato dato da un americano, Bernard Bragg. Ma il visual vernacular, che cos'è? E da dove nasce? Uh, la nascita si perde proprio nella notte dei tempi. Era proprio un modo di raccontare, di passare il tempo, proprio degli istituti per sordi, delle famiglie, oppure tra gli amici che si raccontavano delle cose, ma già da tempo immemore. Quindi, proprio che cos'è? È un tipo di espressione che viene fuori. Adesso io vorrei darvi degli esempi. Allora, vedete? Queste sono chiavi. Nella lingua dei segni, chiavi. Sono tutte diverse però, se ci fate caso. Per esempio, può essere la chiave di casa, oppure invece la chiave della macchina. Questi i segni. Ma nel visual vernacular provo a darvi un esempio. Però, attenzione, ricordatevi, non fate confusione, perché non è una lingua dei segni, eh? Proprio perché tutto il mondo, nel mondo, ci sono diverse lingue dei segni. La lingua dei segni italiana, quella americana, quella francese. E loro sono proprio uguali alle lingue parlate, all'inglese, al francese, all'italiano, perché proprio ognuna ha delle regole di grammatica, delle strutture. Per esempio, se io vedo un'altra lingua dei segni, non è che perché parlo la list la conosco, non capisco niente se non conosco le regole di grammatica. Invece, nel visual vernacular, proprio perché è una forma di espressione artistica visiva, io posso capirla. Sostanzialmente che cosa fa? Racconta. Quindi posso provare a farvi degli esempi. Ok, proviamo a fare degli esempi per allargare la mente. Vediamo. Adesso io vi do un... Facciamo un piccolo racconto. E se andiamo a vederlo dentro, di visual vernacular, troviamo dei punti in comune. Possiamo fare un'analisi. Quali sono questi punti in comune? Adesso li vediamo insieme. L'espressione facciale. Questo implica che io vi dia il significato e l'emozione di che cosa stiamo facendo. Lo zoom. Lo zoom dà proprio un effetto ravvicinato o allontanato dell'immagine o dell'oggetto che sto rappresentando. Il 3D. Questo significa che io posso rappresentare un oggetto da più angolazioni, posizioni diverse nello spazio. La spazializzazione. Quindi significa chiaramente che io posso mettere nello spazio delle cose, per esempio un albero e il mare che si infrange contro di esso, ok? E sono entrambi nello spazio. Segni in parallelo. Cosa significa? Per esempio io posso avere un personaggio, una donna, ok? Che ha una sua storia e un'altra donna, un'altra. Però possono stare insieme nello stesso spazio e le possiamo rappresentare entrambe. Metafore visive. Che cosa significa? Che io uso dei modi per raccontarvi il messaggio facendovi degli esempi visivi collegati proprio al racconto. Il ritmo. Il ritmo è importante perché può essere veloce, può essere lento, può essere lentissimo, dipende. E serve anche la pantomima a volte, ok? Quindi per capire meglio. E poi l'impersonamento. Cosa significa? Che io divento l'oggetto, l'animale o proprio la foto, ok? Quello prende vita, io entro in quello, ok? Quindi in pratica il visual vernacular che cosa fa? Può prendere degli oggetti, degli animali, degli ambienti, delle foto, ok? Dei luoghi o dei disegni e trasformarli proprio in un racconto, proprio come se fossero un film. Ok, allora vi faccio vedere, siete pronti? Il girasole. Ok, allora vi faccio vedere. Grazie. 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 Grazie.